Si parla in questo video di imparare ad imparare e di come noi rischiamo di imparare male. Seguitemi nel ragionamento. Noi per lo più strutturiamo le nostre idee in base alle esperienze che facciamo, cioè da piccoli noi pensiamo, abbiamo la capacità di pensare, di riflettere, ma non sappiamo farlo bene perché manchiamo di un pensiero astratto, raffinato, metacognitivo, per dire un termine complicato, cioè ci manca da bambini un pensiero che va dal di là della nostra piccola esperienza. Non siamo neppure troppo bravi a sintonizzarci sulla frequenza altrui, sull'idea altrui, sul loro punto di vista. E infatti questo si definisce egocentrismo intellettuale ed è normale nell'infanzia. In pratica il mio punto di vista è quello di tutto il resto del mondo. Perciò da bambini noi alla fine cosa facciamo? Deriviamo la nostra visione del mondo unicamente traendo conclusioni, idee, teorie, dalle esperienze che facciamo. Ma le esperienze che abbiamo, che facciamo da bambini, che mi viene da dire anche dopo, sono spessissimo connesse a situazioni emotive. Quindi cosa succede? Succede che noi costruiamo le nostre idee di mondo, le nostre teorie sociologiche e psicologiche, apprendendo da esperienze non neutra emotivamente, ma pesantemente emotive, in un'età nella quale siamo profondamente immaturi. E perciò traiamo letture della realtà da fatti che sono molto poco fatti, in senso stretto, ma sono soprattutto emozioni. Traiamo, quindi ripeto, traiamo idee di mondo da emozioni, non da fatti. E credo che le idee che ognuno di noi si sia fatto dell'amore, delle relazioni, del sesso opposto, chiariscano molto bene che cosa io sto dicendo rispetto al modo in cui noi impariamo cose astratte e che poi in fondo reputiamo universali, cioè da situazioni che invece sono molto poco generalizzabili. Ma il problema ulteriore, forse anche il principale, è che ai bambini, più che a insegnare come pensare, viene insegnato cosa a pensare. E non voglio essere critico, perché capisco bene che un genitore voglia educare un figlio in modo che sia affine a sé e non, come dire, una sorta di serpe in seno. Immaginate ad esempio il tema religioso, no? Non di meno, l'apprendimento preconfezionato va a ostruire quello che si chiama il deutero apprendimento, cioè imparare ad imparare. Perché il dato dogmatico, l'idea preconfezionata, non va ripensata, ma unicamente assimilata ed accettata in una maniera acritica. Ma gli adulti pieni di preconcetti, di emotività delusa e o rabbiosa, e di un egoismo superiore a quanto loro stessi sospettano, possono davvero insegnare ai propri figli come si pensa o si possono solo limitare a insegnare cosa a pensare? Domanda provocatoria. Alla prossima!